Musica Blizza, scampia, scacca, gomorra. 700 uomini delle forze dell'ordine stamane hanno setacciato il rione dove l'incorso la sanguinosa guerra tra i clan. Un pentito intanto rivela due killer giocarono a calcio con la testa di una delle vittime. Reggia, troppi visitatori, danni agli appartamenti. L'allarme viene lanciato dai sindacati. Nelle domeniche gratis si registrano gravi conseguenze per le strutture. Mattonelle saltate e sala del trono sfregiata. Domenica scorsa è stato il terzo monumento più visitato d'Italia. Napoli protesta contro i ministri Alfano e Poletti. La contestazione da parte dei disoccupati davanti alla mostra d'oltremare dove era in programma un convegno con i due rappresentanti del governo. Intanto De Luca firma il protocollo per nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Terrore a Morcone. Anziana rapinata in casa. In azione cinque banditi a volto coperto e armati di bastone che hanno minacciato e rapinato una pensionata sorpresa nel sonno. Rubati soldi e oggetti d'oro. In corso le ricerche dei carabinieri di Cerreto Sannita. Paccheggia ad Avellino un mistero buffo. Il comune non riesce a trovare una soluzione all'affidamento del servizio e della sosta pagamento nelle aree chiuse e diventa drammatica l'avvertenza dei lavoratori delle ex cooperative sociali. Immigrati. Roberti lancia l'allarme. Il capo dell'antimafia intervenuto a Salerno avverte si garantisca la legalità altrimenti l'emergenza rischia di diventare pericolosa e sul carcere di fuori nel sindacato denuncia mancano gli agenti. Buonasera a questi titoli del nostro Tg in apertura alla cronaca. Blitz alto impatto. Questa mattina a Scampia più di 700 uomini delle forze dell'ordine hanno passato al setaccio i quartieri a rischio dell'area nord di Napoli sequestrati armi e droga. Il questore Deyesu nel corso della conferenza stampa ha detto che ha funzionato la sinergia con le altre forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Un blitz per ripulire Scampia. Questa mattina 700 uomini in divisa hanno cinturato l'area nord di Napoli con perquisizioni e sequestri in campo polizia, carabinieri, finanza e vigili urbani. Obiettivo ripulire il quartiere e fare in modo di estirpare alla radice i tentativi di riorganizzazione del male affare. Gli uomini coordinati dal prefetto hanno passato al setaccio alcuni lotti di via Ghisleri e via della Resistenza con decine di perquisizioni e controlli. Al blitz hanno assistito incuriositi tantissimi residenti che affacciati a balconi e finestre hanno seguito con lo sguardo automobili e camionette che sfilavano lungo i vialoni del quartiere. Scene da Gomorra. Gli agenti hanno sequestrato armi e droga e scoperto nascondigli in bunker chiusi con cancelli e controllati con telecamere. Sono state effettuate in tutto 1.123 perquisizioni. Sono state arrestate 10 persone, denunciate 5. Inoltre sono stati sequestrati 13,5 kg di droga. Si è verificata, si è testata l'attuazione di un modello in cui il coordinamento è essenziale. Un banco di proprio per voi capire se quell'area che negli ultimi anni sicuramente è stata oggetto di attività investigative molto attente ma non per questo quell'area è diventata un oasi. L'importante qui è fare le cose. Io sono per il fare. Con questa operazione di oggi che non è un fatto isolato ma che fa parte di una strategia più articolata che noi definiamo periferie sicure vedrà mano a mano tutti i territori particolarmente attenzionati. Ecco, attenzionati nel senso positivo del termine cioè di sostegno alla legalità in quei territori e di far sentire forte la presenza dello Stato. Il boss giocava a calcio con una testa mozzata. I nuovi pentiti di Scampia parlano della faida rivelando i nuovi retroscena. Ecco, il sistema criminale tra innocenti pagati per stare all'ergastolo e assistenza alle famiglie dei detenuti. Vediamo. Macabri retroscena di omicidi sanguinari di una guerra spietata tra le vele di Scampia come quelli del boss che gioca a calcio con la testa di un uomo ucciso perché parente di un camorrista non più ben visto dal capo del clan degli scissionisti. E questo il racconto della faida. una ferita ancora aperta a Napoli dopo oltre dieci anni. A raccontare proprio quei retroscena è un neopentito di Camorra Gennaro Notturno uno degli uomini di punta degli scissionisti. Stralci dei suoi verbali sono stati pubblicati sul Corriere del Mezzogiorno e raccontano l'ennesima storia agghiacciante di quei mesi. La testa di Antonio Ruggiero venne tagliata con un seghetto a varcaturo e poi venne usata come pallone da calcio dal bosso. Quando si girò verso alcuni affiliati ridendo li vide che vomitavano e disse questa è la guerra siete pronti? Così li ammonì dando inizio alla faida. Un sistema ben organizzato quello del cartello tra accordi criminali interni alla cosca in base ai quali ci sarebbe stato più di un affiliato a scontare l'ergastolo in carcere per un delitto commesso da altri. 3.000 euro al mese il prezzo per farsi la galera da innocente parola di pentiti e una nuova nera pagina di Camorra parla anche il collaboratore Pasquale Riccio ex degli Abbinante allora i clan che si fronteggiavano erano gli lauro da una parte e dall'altra c'erano gli scissionisti fu una guerra spietata come lo sono state tutte le guerre dove agli interessi economici si sono aggiunti le vendette personali ci furono anche tante vittime innocenti. L'allarme viene lanciato dai sindacati troppi turisti nella regia di Caserta nelle domeniche gratuite risultato la patina d'oro che ricopre i mobili e parti delle pareti risulta asportata in più punti nella sala del trono dicono i rappresentanti dei lavoratori e le mattonelle di pregio saltate ovunque sotto accusa i visitatori che domenica scorsa prima del mese hanno affollato gli appartamenti storici della regia di Caserta ma la nota dei sindacati ha replicato il direttore della regia Mauro Felicori il quale ha escluso che domenica scorsa ci siano stati danneggiamenti all'immobile e al parco della regia è vero ha aggiunto Felicori che lo stato di conservazione del monumento e del parco è da molti anni carente ma sottolineo domenica scorsa non mi risulta sia successo nulla di particolare qualche momento di tensione questa mattina alla mostra d'oltremare a Napoli dove un gruppo di disoccupati ha tentato di incontrare i ministri Alfano e Poletti intervenuti all'inaugurazione della nuova sede del gruppo Ala hanno cercato di portare le loro difficili situazioni all'attenzione di importanti esponenti del governo ma sono stati bloccati dalla polizia un gruppo di disoccupati napoletani ha creato qualche momento di tensione questa mattina alla cerimonia inaugurale della nuova sede di Ala gruppo italiano specializzato nella distribuzione logistica e fornitura di servizi per l'industria aerospaziale alla mostra ad oltremare di Napoli occupazione sviluppo opportunità i temi affrontati invece per il taglio del nastro della nuova sede cerimonia a cui hanno preso parte il ministro degli esteri Angelino Alfano il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti abbiamo avuto anni ed anni lunghissimi e faticosissimi con il segno meno meno occupazione meno sviluppo meno crescita adesso tutti questi segni meno sono diventati più questa inaugurazione credo che sia un segnale molto incoraggiante proprio in giorni in cui si registrano dati economici positivi per il sud constatare che questi dati non sono un'astrazione ma sono esattamente la realtà di questi luoghi da ormai 4 anni ci sono quasi un milione di occupati in più dichiara il ministro Poletti e prosegue io credo che ci sia ancora molto lavoro da fare specialmente rispetto ai giovani abbiamo bisogno di continuare in questa direzione ma lo stesso dato Istat ci dice che se si considera la variabile demografica in questi anni tutte le classi d'età hanno aumentato il numero degli occupati Lavoro non solo per impedire il tracollo ma per rilanciare l'ANM Di Magistris chiede la collaborazione di sindacato governo e regione per salvare l'azienda di trasporto pubblico napoletana giovedì di nuovo incontro con le sigle sindacali vediamo il servizio Siamo l'unica città metropolitana d'Italia che non ha privatizzato i servizi pubblici ecco perché è una grande sfida non mi interessa solo evitare il tracollo dell'azienda ma il mio obiettivo è rilanciarla garantire i diritti dei lavoratori e offrire un servizio efficiente alla città così il sindaco De Magistris a proposito delle difficoltà finanziarie dell'ANM all'indomani dello sciopero dei trasporti pubblici che ieri ha mandato in tilt Napoli i cittadini sono giustamente arrabbiati i lavoratori sono agitati perché hanno preoccupazione per il loro futuro quindi bisogna comprendere qual è l'obiettivo e sull'obiettivo lavorare tutti insieme siamo impegnati ogni giorno su questo è chiaro che per raggiungere questo obiettivo ci vuole la leale collaborazione di tutte le istituzioni che doverosamente si devono interessare di questi che sono la regione Campania e il governo nazionale ma io se posso anche qui fare una previsione non ho dubbi che il governo nazionale e il governo regionale non facciano la loro parte ma il sindaco chiede collaborazione anche ai sindacati per superare il momento di crisi giovedì è in programma un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale i vertici di ANM e le organizzazioni sindacali questo momento di crisi del trasporto lo si può vivere o cedendo mollando e quindi mettendo sul mercato un'azienda storica della nostra città come hanno fatto in altre città ci si può limitare a sopravvivere e non è l'obiettivo di questa amministrazione sopravvivere significa salvare ma non alzare il livello di miglioramento noi invece siamo per la terza sfida e siccome la sfida è così alta così grossa non possiamo che chiedere il sostegno di tutti su questa linea un patto tra regione e governo per svecchiare la pubblica amministrazione che in campagna registra fra le età medie più alte d'Italia via libera l'assunzione di 60.000 giovani esulta il governatore De Luca che poi su città della scienza bacchetta le istituzioni la campagna non può essere la sola a pagare vediamo 60.000 nuove assunzioni per abbassare l'età media e favorire l'occupazione dei giovani siglato il patto tra regione campagna e funzione pubblica per svecchiare la pubblica amministrazione territoriale per il governatore De Luca il governo ha ripreso il piano di Palazzo Santa Lucia per le assunzioni dei giovani ho parlato un anno fa di un piano per il lavoro che interessasse 200.000 giovani da immettere nella pubblica amministrazione allora ci fu un po' di distrazione vedo che oggi il governo prende in mano in qualche modo quella idea la precisa la puntualizza e cerca di mandarla avanti firmiamo oggi un protocollo intesa regione ministero della funzione pubblica per avviare una procedura di immissione nella pubblica amministrazione di migliaia di giovani faremo prima una ricognizione su tutto il pubblico impiego che riguarda la regione vedremo quali sono i profili professionali di cui c'è bisogno dopodiché avvieremo procedure di selezione su base regionale mi pare un grande progetto per ringiovanire la pubblica amministrazione far crescere l'efficienza della pubblica amministrazione e dare una prospettiva di lavoro non di assistenza ai giovani della campagna la regione campagna ha una età media di lavoratori molto alta avete visto soltanto il 3% dei lavoratori a meno di 35 anni allora questa è una grande occasione va sfruttata a margine della sigla del protocollo il presidente della giunta regionale ha anche bacchettato le istituzioni su città della scienza la campagna ha detto non può essere l'unico ente a sopperire alle perdite noi possiamo pure commissariare ma la città della scienza per andare avanti ha bisogno di decine di milioni di euro e la realtà è che tranne la regione campagna qui non paga nessuno paura a morcone in provincia di benevento per una rapina messa a segno in una casa le vittime sono state svaleggiate da 5 banditi in servizio di Alessandro Fallarino stava dormendo in compagnia della figlia quando all'improvviso nella sua stanza hanno fatto irruzione 5 banditi armati di bastone e con il volto coperto che l'hanno rapinata di soldi e gioelli tornano in azione nel samnio i rapinatori che terrorizzano le famiglie in piena notte è accaduto delle campagne di Morcone dove nel mirino è finita una pensionata che si è trovata a fare i conti con i banditi non uno o due ma ben cinque persone che dopo aver forzato un infisso sono piombati nella casa immaginabile la paura per la pensionata e i suoi familiari tutti sono stati minacciati dai rapinatori che si sono fatti consegnare i soldi e i gioelli prima di scappare e far perdere le proprie tracce probabilmente a bordo di un'auto l'allarme è scattato quando i malcapitati hanno avuto la certezza che i banditi fossero andati via sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Cerreto Sanita della stazione di Morcone gli investigatori hanno raccolto la denuncia delle vittime ed hanno avviato le indagini una pistola puntata alla testa per farsi consegnare 5.000 euro in contanti terrore a battipaia per il titolare del negozio di abbigliamento Cantalupo in via Paolo Baratta l'uomo è stato avvicinato ieri sera dopo l'orario di chiusura da un giovane probabilmente extracomunitario mentre entrava in auto il rabbinatore lo ha minacciato con un'arma e dopo aver intascato i soldi si è dato alla fuga l'episodio avvenuto nella zona centrale della cittadina della Piana la vittima ha alertato la polizia gli agenti del locale commissariato hanno avviato le ricerche finora senza esito intanto a battipaia è allarme per l'escalation di furti e rapine cambiamo argomento parliamo dei parcheggi ad Avellino il dramma lavoro degli ex dipendenti delle cooperative il comandante Arbonio e il comune studiano una soluzione ma intanto restano tutti i dubbi sul futuro occupazionale degli ex parcheggiatori caos parcheggi ad Avellino dopo la clamorosa protesta di due ex dipendenti delle cooperative che ieri sono saliti sul tetto del comune si cerca una soluzione già nel pomeriggio di ieri il comandante della municipale Arbonio ha avviato i colloqui con i 38 ex parcheggiatori che termineranno oggi pomeriggio dopodiché si procederà ad una scrematura per capire quanti aiutarne destinandoli a lavori trimestrali di pulizia e guardiania delle aree di sosta una soluzione che però non piace ai parcheggiatori che minacciano nuove clamorose azioni di protesta il tutto in attesa di chiudere ancora il vecchio bando e aprire il nuovo ma come ammette l'amministratore di azienda città servizi greco il comune è ancora in alto mare per il vecchio bando sono il responsabile unico del procedimento la commissione ancora non mi ha comunicato diciamo le determinazioni di tutte quelle cose che sono accadute quindi io non posso esprimermi diciamo su cose che non sono ufficialmente determinate quindi parliamo di una cosa che sul nuovo bando non ne parliamo proprio perché nel senso che c'è una volontà è un indirizzo ma è ancora tutto in alto mare per il consigliere di opposizione Alberto Bilotta questa vicenda come quella del teatro Gesualdo è l'emblema di un'amministrazione fallimentare i parcheggiatori sono persone sono persone esasperate che purtroppo la loro esasperazione potrebbe ridursi se vedono una prospettiva qui prospettive non ne danno perché come nel caso ACS ma così pure come nel caso teatro si cerca sempre di allungare i tempi senza mai di prendere una decisione chiara e concreta e soprattutto da investire gli stranieri diventano un problema se non c'è integrazione serve un grande sforzo di istituzioni e forze dell'ordine per frenare la criminalità legata agli extracomunitari così il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che da Salerno interviene nel dibattito avviato dal governatore De Luca sulla occupazione militare del territorio vediamo il servizio di Giovanni Battista Lanzilli sull'assassinio del sindaco pescatore Angelo Vassallo non ci fermeremo fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda così il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ospite a Salerno per la presentazione del libro di Antonio Mattone e adesso la palla passa a me ma la vita solitudine riscatto nel carcere un'occasione per il capo dell'antimafia e antiterrorismo anche per affrontare temi caldi che riguardano il territorio salernitano da un lato il delitto ancora senza colpevoli del sindaco di Pollica dall'altro l'allarme sugli extracomunitari che occupano militarmente la città come ha denunciato il governatore Vincenzo De Luca io ricordo che quando ero procuratore della Repubblica qui a Salerno nel 2010 trovammo un vastissimo insediamento di extracomunitari prevalentemente marocchini e tunisini insediati qui nella zona di San Nicolavarco del tutto in condizioni del tutto subumane e quindi totalmente illegali che erano tutti dediti alle più svariate attività delittuose grazie al concorso delle forze dell'ordine di tutte le istituzioni anche politiche del territorio riuscimmo a eliminare quella vera e propria barbarie che trovammo in quella zona io credo che ci voglia un grande sforzo per ricondurre a una situazione di legalità questo fenomeno che altrimenti rischia di sfuggire alle mani dal controllo la rassegna si pari aperti al teatro Gesualdo di Avellino diventa un caso politico la gestione dell'evento finanziato con 350 mila euro dalla regione campania è stata demandata a una società partecipata di Palazzo Santa Lucia a creare scompio non tanto la richiesta della minoranza di accesso agli atti ma l'adesione alla richiesta da parte del presidente del consiglio Livio Petitto e del capogruppo PD Giuseppe Giacobbe che poi in una nota chiarisce ho firmato la richiesta perché l'amministrazione comunale non ha nulla da temere sulla trasparenza degli atti un'interpretazione ben diversa quella della minoranza quello che emerge ancora una volta commenta il capogruppo Udc Alberto Bilotta è che sulle vicende serie e questo è il caso di Sipari Aperti la maggioranza continua a dividersi una maratona combinata alla prevenzione del tumore al seno Telesia Pink Race vincere si può è il nome della manifestazione sportiva presentata questa mattina a Napoli al consiglio regionale vediamo è stata presentata nella sala da caduti di Nassiria del consiglio regionale della campagna la Telesia Pink Race 2017 la gara di mezza maratona in programma domenica prossima 8 ottobre a Telesia Terme è sponsorizzata dalla Mangimi Liverini a fare gli onori di casa oltre al consigliere regionale Erasmo Mortarulo è stata la presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio è un'iniziativa che ha una grande rilevanza sociale ma anche sanitaria è una iniziativa che mettendo al centro la prevenzione dei tumori al seno delle donne però fa riflettere su come sia importante lo sport come siano importanti gli stili di vita a snocciolare il programma della manifestazione Filippo Liverini presidente della Confindustria di Benevento e patrono della Mangimi Liverini quella di domenica prossima sarà una bellissima manifestazione che per la prima volta vede conciliare due aspetti quella con Icer quindi i veri atleti che faranno la gara della 21 km e poi della mezza maratona e poi questa iniziativa dove il gruppo Gepos di Telesi gruppo di Vizia ha voluto sensibilizzare un po' quello che è l'argomento per la ricerca su cancro non solo una competizione sportiva ma anche un'opportunità per il territorio di Telesi Terme ha rimarcato il primo cittadino è una maratona che dà grande apertura al nostro sanno soprattutto alla città di Telesi Terme non è la prima edizione ormai è una maratona consolidata quest'anno si arricchisce anche di una passeggiata che riguarda la prevenzione è un fatto importantissimo all'oggi ad Avellino nessuna certezza sui trasferimenti da abbattere fermi pure gli sfratti e la graduatoria delle nuove assegnazioni festa dice paghiamo i ritardi del passato Angelo Giuliani non ci saranno nuove assegnazioni le graduatorie resteranno bloccate ma soltanto trasferimenti dagli edifici da abbattere e ricostruire ad Avellino la riunione congiunta di settima e quarta commissione politiche abitative e lavori pubblici fa segnare una battuta a vuoto non c'è una soluzione facile a portata di mano commenta il presidente della commissione lavori pubblici Gianluca Festa c'è un problema relativo alle famiglie di Lone Parco 64 famiglie hanno bisogno di un alloggio per poter intervenire in quella zona e 28 famiglie via Matucci hanno bisogno di essere riallocate per poter abbattere e ricostruire avremmo voluto abbiamo provato non avremmo voluto non perdere tempo nei mesi scorsi ma non è utile guardarci indietro guardiamo al presente guardiamo al futuro cerchiamo di trovare una soluzione per queste persone al momento i 30 alloggi di via in Mimbo sono praticamente conclusi quelli che devono invece essere ultimati sono quelli di Ballone dei Lupi e via De Venuta c'è un problema con l'impresa che non sta pagando le maestranze e gli uffici stanno provvedendo a intervenire e nulla di nuovo anche sul fronte sfratti nonostante la presenza del comandante della municipale Michele Arbonio nonché dirigente del settore che ha preferito non parlare noi siamo dell'avviso comunque in generale che coloro i quali hanno doppi alloggi e hanno redditi alti devono essere sfrattati assolutamente perché ci sono tante famiglie che hanno diritto ad avere un alloggio popolare e che sono in attesa da anni in silenzio vanno rispettate presentata questa mattina il rinnovato servizio di bike sharing nella città di Salerno che consentirà di poter usufruire di un mezzo di trasporto alternativo pratico ed ecologico è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano di rilancio del servizio bike sharing di Salerno un servizio di mobilità alternativa pratico ed ecologico diretto a coloro che vivono in città o la frequentano con regolarità abbonandosi sarà possibile prelevare la bicicletta in una delle sei ciclostazioni presenti in città e restituirla in qualsiasi altra che abbia una postazione libera come spiega Giovanni Ferro CEO di Helios SPA società che detiene il marchio Bici in centro Per Salerno abbiamo diciamo così completato quello che era già un percorso iniziato con il precedente diciamo così fornitore di questo servizio e quindi abbiamo realizzato le sei ciclostazioni per il momento a queste se ne aggiungeranno altre entro la fine dell'anno fino ad arrivare a nove in totale le nuove tre ciclostazioni sono state pensate per completare una parte della città le altre due completeranno l'ultimo step e sono il faro della giustizia per intenderci quindi cittadella giudiziaria lo stadio e il cinema e l'ultima piazza del mercatello quindi abbiamo completato diciamo così la linea costiera mancherebbe un tassello che è quello di Parco Albostella per il quale diciamo così stiamo cercando con il comune di individuare il luogo più adatto dove posizionare questo servizio era l'ultima notizia il TG termina qui grazie di averci seguito ora ci sono le previsioni meteo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.